Buon pomeriggio telespettatori di Le Fonti TV e ben ritrovati a una nuova puntata di Legal Corner. Come leggete in sovraimpressione oggi parleremo del nuovo paradigma del lavoro, un argomento che ha tenuto banco in questi due anni e che è ancora oggi attualissimo perché queste nuove regole, questo paradigma si sta scrivendo. Non ne parleremo da soli, sono in compagnia dell'avvocato Valentina Pepe, partner di Pepe Associati. Ben trovata. Grazie, ben trovata Maria. Avvocato, inizio immediatamente a gamba tesa, proprio partendo dal titolo. Nuovo paradigma, questi due anni di lockdown, come hanno cambiato i vecchi paradigmi e come ne hanno creati di nuovi dal suo punto di vista? Gli ultimi due anni sono stati sicuramente sfidanti dal punto di vista del diritto del lavoro. La pandemia ha impresso delle accelerazioni, alcuni processi riorganizzativi che avevano iniziato a intravedersi nel nostro sistema. Tempi e luoghi di lavoro di fatto hanno perso la loro connotazione tradizionale e questo sta determinando importanti effetti. In primis pensiamo al diritto alla disconnessione, quindi questo diritto dei lavoratori di vedere ben individuato quello che è tempo di lavoro e quello che tempo di lavoro non è, con un'importante onere a carico del datore di lavoro di garantire con adeguati strumenti e mezzi che questa disconnessione sia effettiva. Un altro tema di grande interesse è quello della Iolo Economy, questa nuova corrente di pensiero che fa registrare questa tendenza dei lavoratori a privilegiare sempre di più oggi la qualità della vita, il tempo libero rispetto al lavoro. Questo sicuramente impone dei nuovi ripensamenti sull'importanza di offrire ai propri lavoratori una adeguata conciliazione dei tempi di vita e lavoro e questo può diventare proprio materia di scambio anche tra datori di lavoro e lavoratori. Dal punto di vista delle aziende sicuramente il tempo oggi non può essere più considerato come il paradigma per la misurazione della prestazione. Oggi la prestazione si misura sul risultato e questa accelerazione e questa modifica portata dalla pandemia vedrà il consolidarsi di modelli più flessibili in alcune aziende e invece un ritorno al passato forse per altre. Questo dipenderà molto dalla capacità delle aziende che avranno di strutturare veri e propri adeguati processi riorganizzativi e creare quella capacità di coinvolgimento, responsabilizzazione sui dipendenti della prestazione. È una sfida molto importante, non tutte le aziende sono pronte e dovranno sicuramente attrezzarsi per rispondere a queste nuove esigenze. Avvocato, lei ha parlato di cambiamenti importanti, parliamo di disconnessione, parliamo effettivamente di giovani e lo leggiamo tutti i giorni, i giovani che rinunciano anche al tempo indeterminato perché magari non trovano più quel bilanciamento che un tempo non era reputato necessario, invece oggi è visto come indispensabile. E ha parlato soprattutto di quello che era il paradigma cardine della nostra normativa, cioè la misurazione della prestazione in base al tempo speso e alla presenza fisica anche nel luogo di lavoro. Adesso tutti questi cambiamenti, la norma sta riuscendo a seguirli? Il nostro impianto normativo tiene in passo con tutto questo nuovo paradigma reale del lavoro? Ma se pensiamo ai cambiamenti ai quali stiamo assistendo da ormai due anni, l'impressione è che sicuramente ci sia molto da fare dal punto di vista normativo, specie se consideriamo che il nostro sistema di diritto del lavoro è un sistema molto rigido e molto formalizzato. Sicuramente alcuni sforzi positivi li abbiamo colti, ci sono stati da parte del legislatore. Pensiamo da ultimo al protocollo sul lavoro agile del dicembre 21, pensiamo anche alla legge delega 32 del 2022, il Family Act, che in attuazione di una direttiva europea del 2019 ha proprio l'obiettivo di promuovere il lavoro femminile, l'occupazione femminile, l'ecocontemperamento dei carichi genitoriali di famiglia, quindi sicuramente degli sforzi e dei segnali positivi li cogliamo. Il rischio è però che non venga colta questa istanza e questa necessità di uscire dal paradigma tradizionale del lavoro subordinato che oggi vige nel nostro ordinamento, fatto di un'impostazione molto rigida in termini di inquadramento, declaratorie, orario di lavoro e anche in termini di risultati e valorizzazione dei risultati intesi come rendimento e valutazione del rendimento dei lavoratori. Quindi sicuramente molto vi è da fare. Un ruolo interessante potrà essere svolto in questo contesto dalle relazioni sindacali che potranno essere sviluppate all'interno dell'azienda. Questo presuppone che anche le associazioni sindacali e le sigle sindacali siano in grado di uscire da un perimetro negoziale classico e tradizionale riuscendo a cogliere le nuove istanze delle aziende ma anche le nuove esigenze, le nuove richieste dei lavoratori. Lei ha già iniziato a tracciare alcune sfide partendo da quelle delle relazioni sindacali e quindi delle associazioni sindacali e di rivedere un po' quello che è l'approccio tradizionale. Quali altre sfide ma anche criticità vede da un punto di vista strettamente normativo invece? Ma se guardiamo ad esempio la normativa sul lavoro agile di cui adesso sentiamo tantissimo parlare possiamo verificare che ad oggi la normativa è molto concentrata sulla definizione di quelli che sono i vantaggi e i diritti e i benefici legati al lavoro agile a favore dei lavoratori. Questo è assolutamente corretto però non dobbiamo dimenticare che tutta questa serie di diritti e questa focalizzazione sulla posizione dei lavoratori ha come contropartita sicuramente la definizione di stringenti, oneri e obblighi a carico del datore di lavoro. Pensiamo ad esempio agli obblighi in tema di disconnessione, alla tutela della privacy, alla ridefinizione dei sistemi di controllo. Quindi si tratta di norme sicuramente importanti, ancora il tema della sicurezza, non sempre così chiari nella loro formulazione e nella definizione del loro perimetro di attuazione. Di contro i vantaggi legati al lavoro agile sotto il profilo del datore di lavoro risultano ancora non così trattati, così definiti e così approfonditi dal legislatore. Il rischio è quello che se appunto il datore di lavoro non verrà affiancato anche da un punto di vista normativo nell'ampliamento della disciplina del lavoro agile, anche con un'attenzione a quella che è l'organizzazione del lavoro, di un nuovo lavoro che superi in parte il paradigma tradizionale del lavoro subordinato, il rischio è quello che si possa assistere nel medio periodo ad un ritorno al passato, soprattutto da parte di quelle piccole e medie imprese che vivono in maniera più complessa e con più difficoltà questo processo di cambiamento. Guardiamo un attimo invece al futuro, non che lo stiamo facendo, ma lo stiamo facendo soprattutto da un punto di vista normativo. Invece proviamo a guardare proprio la tua azienda, secondo lei, alla luce chiaramente delle norme che poi il suo pane quotidiano, quali sono gli scenari che si apriranno nel medio termine e quelli soprattutto a cui le aziende dovranno prestare maggiore attenzione per tutelare se stesse e i propri lavoratori chiaramente? Assolutamente, ma gli ultimi due anni sono stati assolutamente complessi per le aziende che oggi dopo appunto due anni di pandemia si trovano da un lato a dover cercare di riprendere il proprio business e di poter traghettare le proprie aziende al di fuori di questa situazione di crisi che ha colpito il globo. Sotto altro profilo le aziende, oltre a questa importante sfida, si trovano di fatto a dover rispondere a delle nuove stanze dei lavoratori, a delle nuove richieste e a un nuovo modo di intendere l'articolazione della prestazione di lavoro subordinato. Fra i temi di maggior interesse, a mio avviso, possiamo annoverare sicuramente l'importanza di non sottovalutare il ruolo di un pensato e strutturato processo riorganizzativo. I processi riorganizzativi all'interno delle aziende non possono essere improvvisati, non possono essere demandati all'iniziativa del management, ma devono fondarsi per essere efficaci su un adeguato studio preventivo, adeguamento a quella che è la realtà aziendale, fase di implementazione e strutturazione. Anche il management delle aziende deve essere adeguatamente formato e assistito nel governare il cambiamento, perché non può questo essere demandato all'iniziativa dei singoli. Si tratta di processi troppo complessi e il rischio è quello di porre in essere delle riorganizzazioni che non si dimostrano poi nel medio termine adeguate alle esigenze delle aziende. Altro tema molto importante sarà quello di valorizzare sempre di più e intercettare quelli che sono i bisogni dei lavoratori. L'istanza di formazione, l'istanza di flessibilizzazione, l'istanza di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, la partecipazione della forza lavoro ai risultati e anche all'implementazione dei modelli organizzativi. Questo sarà un tema molto interessante, anche se consideriamo il fenomeno delle Great Resignation, un fenomeno che adesso riguarda soprattutto i paesi esteri, però inizia ad affacciarsi anche in Italia. Quindi sempre più importante sarà anche questo ruolo di attrattività dell'azienda nei confronti dei propri talenti. Ancora pensiamo al Family Act, come dicevamo prima, quindi questa legge delega che ha proprio la finalità di promuovere il lavoro femminile e l'equa divisione dei carichi genitoriali, familiari e lavorativi e anche su questo il ruolo delle aziende non potrà essere certo un ruolo passivo. E altro elemento fondamentale è ripensare alla valorizzazione delle relazioni sindacali, perché soprattutto in un contesto che è caratterizzato magari da una scarsa o non adeguata legificazione, intervento normativo, la contrattazione sindacale, se si svolge fra interlocutori, in grado di cogliere le nuove istanze e le nuove necessità, può essere proprio quello strumento di aiuto alle imprese e ai lavoratori. E qui torniamo a quello che dicevamo all'inizio, il ruolo fondamentale che possono assumere le associazioni sindacali e la contrattazione, chiaramente in questo momento di cambiamento strategico. Un ruolo che è promosso anche dal nostro legislatore, perché anche il protocollo del 7 dicembre 2021 nasce proprio con lo scopo di dare delle linee guida per l'implementazione delle procedure, dei processi e degli accordi di lavoro agile nell'ambito di regolamentazione e contrattazione di secondo livello anche appunto a livello di singola azienda. Ecco, relazioni sindacali, associazioni ma non solo, perché abbiamo parlato di tanti cambiamenti, di traghettare le aziende, e di aiutarle soprattutto come questo processo debba essere strutturato, quindi fondamentale anche il ruolo del gius lavorista. E qui chiamo in causa proprio quello che è poi il suo ruolo come consulente. Quali potenzialità, quali strategicità in questo momento per i gius lavoristi? Sì, il nostro ruolo è veramente, anche esso, modificandosi il mondo del lavoro, si modifica anche il ruolo del gius lavorista. Già negli ultimi anni avevamo assistito ad un maggior coinvolgimento del gius lavorista all'interno delle aziende anche in un'ottica di compliance lavoristica, quindi in un'ottica preventiva di intervenire prima delle fasi patologiche dei rapporti per prevenire appunto quella che poi è la fase contenziosa e appunto le vie, diciamo, famose vie giudiziali. Quindi sicuramente già prima della pandemia il ruolo del gius lavorista è sempre più stato visto come un ruolo di affiancamento, non solo di intervento nella fase poi patologica. Sicuramente nell'ultimo periodo l'avvocato gius lavorista diventa sempre più un partner strategico rispetto alle aziende che chiedono il suo intervento proprio per collaborare nella strutturazione aborigine di processi, di procedure, di regolamenti sempre nell'ottica di avere appunto anche una garanzia di compliance gius lavoristica per i vari profili. Pensiamo ai profili della privacy, pensiamo ai profili della riservatezza, pensiamo a tutti i temi di controllo dei lavoratori a distanza, pensiamo a tutta la contrattualistica anche in tema di lavoro agile. Quindi sicuramente un ruolo di partner strategico che interviene anche in una veste di assistenza, anche in un'ottica di saving di costi e in un'ottica proprio di riorganizzazione a tutto tondo. Sicuramente una nuova fase sfidante, molto impegnativa ma molto stimolante. Bene, io con queste parole ringrazio l'avvocato Valentina Pepe, partner dello studio Pepe Associati, grazie di essere stata con noi, grazie soprattutto della chiarezza con cui ci ha aiutato a meglio comprendere i cambiamenti in atto in ciò che stiamo quotidianamente vivendo tutti noi. Grazie di essere stata con noi. Grazie a voi. Grazie naturalmente anche ai nostri telespettatori. L'appuntamento è per la prossima puntata di Legal Corner. Buon pomeriggio. Grazie. Grazie.